Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi, sabato 26 agosto. Il tema che ancora su tutti i giornali tiene banco è quello dello sgombero di Piazza Indipendenza, di Via Curtatone, ieri dei 500 eritrei, non si sa bene il numero. Ed è incredibile quello che oggi i giornali scrivono, è incredibile perché i giornali oggi rivendicano il fatto e sono contenti del fatto che Minniti, cioè il ministro degli interni, l'uomo che diceva la sicurezza non è una questione di sinistra, non è una questione di destra, anzi è una grande questione di sinistra. Vi ricordate tutta quella retorica sulla sicurezza di Minniti e anche il fatto che Minniti piaccia molto a molti elettori moderati, con questa sua aria che non dà mai interviste se non a Eugenio Scalfari, con quest'area da tosto, quasi mussoliniano, se non si offende Minniti in quest'area in cui non si può parlare di Dux da nessuna parte, e con quest'area da tosto Minniti però dice il giorno dopo in cui viene fatto finalmente uno sgombero a Roma dopo anni che si doveva fare, dice attenzione, gli sgomberi devono essere fatti rispettando le regole, insomma una marcia indietro che tutti capiscono bene gli sgomberi, nel giorno in cui c'è una manifestazione, preoccupazioni di locali pubblici, insomma un disastro da un punto di vista comunicativo, è anche un disastro perché coloro che occupavano, oggi c'è il Corriere della Sera ma tutti gli altri giornali, raccontano bene che cosa era successo e cosa succedeva in quel palazzo di via Curtatone. Oggi Buccini sul Corriere della Sera per esempio, dice una cosa che difende, in realtà in una certa misura difende la polizia, perché poi comunque i suoi rapporti con la polizia restano buoni, però dice una brutta giornata per la città e per gli italiani, no non è una brutta città, è una bellissima giornata, perché è la prima volta che io vedo che si è operato uno sgombero in una città come Roma, in cui, leggo sul Corriere della Sera, ci sono 101 immobili occupati, se gli immobili sono occupati c'è qualcuno che subisce l'occupazione, quel qualcuno è un privato a cui hanno tolto il proprio diritto di proprietà, in realtà poi 101 immobili occupati sono soltanto una frazione, perché ci sono moltissimi immobili che sono occupati anche da una persona, due persone, di persone normali che non fanno titolo e che non vanno sui giornali. Il Corriere della Sera titola Stretta del Viminale sugli sgomberi, allora io l'ho scritto oggi sul giornale, immaginatevi un titolo di questo tipo, Stretta del Viminale sulle demolizioni delle case abusive, è la stessa cosa, sempre diritto di proprietà, anzi il diritto di proprietà è meno forte nelle case abusive di quanto lo sia nelle case già costruite e abusivamente occupate da qualcun altro, perché se io ho una proprietà e qualcuno me la occupa c'è qualcuno che sta violando la mia proprietà e quindi è un fallo da rigore, se invece io ho una proprietà regolarmente acquistata a cui aggiungo una finestra, aggiungo un piano, commetto un illecito dal punto di vista amministrativo, ma non faccio del male a nessuno, o meglio faccio di male al diritto pubblico, sono tutti due illegali, ma il primo forse è peggio, mentre noi oggi cosa facciamo? Stretta sugli sgomberi, si dovrebbero allargare gli sgomberi nelle città di questo paese, non diminuire, perché è totalmente ingiusto quello che avveniva ad esempio via Curtatore, dove oggi tutte le croniche dei giornali raccontano come erano organizzati questi piani, dove si pagavano degli affitti, a chi si pagavano non è dato sapere, se non che, dicono i giornali, c'era un'associazione di questi centri sociali che si chiamava, adesso ve lo dico, Angelo Mai, che fu inquisita, che fu perquisita ai suoi acquisti dei dirigenti, perché prendevano le stecche per dare le case occupate agli occupanti, e ci sono state ritrovate moltissime ricevute da 10 euro al giorno, quindi 7 mila euro al giorno, che qualcuno prendeva da questi eritrei che noi volevamo tenere là dentro, e quindi volevamo continuare a perpetrare il suppruso che loro subivano da parte degli sciacalli, esattamente come la storia delle ONG, la stessa cosa la dice Ezio Mauro sul giornale Oggi, su Repubblica, quello che dirigeva, però con l'aria invece dolente, e cosa dice Ezio Mauro sul giornale? dice la povertà è una colpa, così come per le ONG, anche per gli eritrei, la povertà è una colpa, tant'è che si sono stati cacciati. Caro Mauro, è esattamente il contrario, e non è la povertà è una colpa, una colpa è fare cose illegali, come ci ha spiegato il tuo giornale, per anni in tutte le salse. È ovvio che oggi Marco Travaglio prende la posizione che stiamo appena dicendo, cioè dice non riesco a capire quale sia stato il problema nello sgomberare qualcuno che commetteva delle illegalità a Roma, cioè esattamente sulla posizione di cui parlo io. Certo è che Marco Travaglio non parla con quelli che si occupano di fare il giornale, il fatto nelle pagine interne, se voi leggete il pezzo interno sullo sgombero del palazzo della stazione Termini, della cronaca interna del fatto, c'è tutta quest'area solita dei cronisti, bonisti, che dicono, perché questa è la base della nostra categoria, è quella che se sei... Vabbè, insomma, non avete capito cosa voglio dire, invece la cronaca è piena di queste storie dolenti di persone che sono state abusate dalla polizia, mentre Travaglio ci dice esattamente il contrario. Molto interessante è il pezzo, il manifesto coglie uno degli aspetti di questa vicenda e che è Black Blog, dice, ricordando i Black Blog, cioè quelli che fanno casino, e sul blog ricordando con la foto di Di Maio e Fico il contrasto che c'è tra Di Maio e Fico sugli sgomberi. Di Maio a favore degli sgomberi e Fico contrario.